Taglia il traguardo della dodicesima edizione la manifestazione Novilara Arte Gusto che come ogni estate torna ad aglietare le serate del Burgo Storico di Novilara. Dal 5 al 7 luglio l'appuntamento è quello con una formula consolidata che ruota attorno alla gastronomia del piatto simbolo delle tagliatelle coi fagioli insaporite dal contorno di una ricca serie di appuntamenti culturali, dagli spettacoli comici a le mostre d'arte, dalla musica alle degustazioni. Avremo tantissimi ospiti, uno per sera, quindi stanno aumentando che alimentiamo le proposte, non solamente la parte eino-gastronomica perché come sempre siamo accompagnati anche dall'AIS con la delegazione di Pesaro. Quindi è diventato un momento celebrativo del territorio perché ci piace parlare di territorio in questo evento dove mettiamo in rete tantissime cose dai prodotti, produttori, ma anche gli ospiti e le varie associazioni che ci sono intorno. A prendersi il palcoscenico principale saranno due personaggi di Zelighe come Leonardo Manera che si esibirà il venerdì e lo show di Poli Tabaldini previsto il sabato. La domenica sera spazio da Andrea Paris e da Italia's Got Talent per tre artisti da copertina dentro un programma di arte e spettacoli ancora più ampio. Avremo il venerdì Elisa Menini che è una fumettista e farà un horror dinamico analogico, una cosa molto particolare. Anche il sabato sera invece avremo uno spettacolo più di artisti di strada con Kira che lui è un artista che fa uno spettacolo dentro la ruota Sir. E poi invece la domenica chiuderemo in modo più morbido, avremo addirittura Elisa Prioli che arriva al suo decimo anno e quindi ci racconterà un po' tutta la sua storia. Però quello che è importante dire è che in questa sinergia ci sono più eventi negli eventi che a volte è difficile da comunicare perché il venerdì e il sabato avremo le degustazioni con l'EIS appunto con i vari produttori e il concept wine che si porta anche dei vini stranieri e invece la domenica facciamo questo momento più rilassante, dedicato ai giovani con Mayo Noise che è un collettivo di artisti pesaresi. La componente del gusto avrà il suo fulcro nella tipicità delle tagliatelle ma fra degustazione e cooking show non mancherà la grande attenzione a vini ed oli nell'ottica dei progetti comuni con l'associazione italiana sommelier e DOP di Cartoceto. Quest'anno introdurremo le degustazioni al tramonto che sono delle degustazioni guidate appunto da uno dei nostri sommelier e introdurremo durante i cooking show degli speed testing che sono delle rapide confronti tra vini che si possono abbinare ai piatti che vengono preparati sul momento. Ci sentiamo molto in sintonia con la iniziativa di Novilara. L'olio DOP di Cartoceto è un'eccellenza a livello nazionale e un'eccellenza anche nella nostra regione, è un territorio specifico molto molto contigo alla realtà di Novilara. In questo senso quindi siamo molto onorati di partecipare con il nostro prodotto, con la nostra qualità e soprattutto siamo onorati di essere inseriti in un contesto di prossimità di paesaggi, di identità culturali comuni e sarà questa prima iniziativa una delle tante che svilupperemo alla luce anche di una ipotesi di itinerario che vorremmo costruire che porti naturalmente a valorizzare il paesaggio agrario e ambientale della nostra provincia. Io non sono pesarese però dall'89 che vivo a Pesaro e sono contento che Pesaro stia andando ai livelli che si merita.